Quando sei qui con me, questa stanza andava parecchi, ma... ...alberi infiniti... Guardate, un'altra volta! Timo! Sono andato dove io? Ti ho? Ammazzo questa botta, apri questa cosa, oh! Apri! ... 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 Grazie a tutti.